è il primo maggio buongiorno buongiorno a tutti bentrovati grazie ancora una volta di essere con noi qui allora solare oggi abbiamo una puntata piena di storie che partono tutte dalla data dal primo maggio festa del lavoro festa dei lavoratori una festa in cui parleremo di chi difende i lavoratori di chi protegge i lavoratori e racconteremo storie di lavoro anche di lavoro di fatto da ragazzi straordinariamente giovani straordinariamente bravi san giuseppe lavoratore patrono di falegnami ebanisti carpentieri al 19 marzo avevamo già dato con la festa del papà ci aiuta in questo viaggio fra giancarlo paris che sono contentissima che sia qui per tutto il tempo potete possiamo applaudire anche un po di più è un ospite molto importante allora frate minore conventuale provincia di padova lei adesso è impegnato al villaggio sant'antonio 90 padovana è un istituto dove accogliamo persone adulte con disabilità sono un'ottantina 20 comunità stabile e una sessantina invece che vengono al diurno è un lavoro che parte innanzitutto dal cuore però vero sì però è un impegno è un impegno anche perché si ha a che fare con genitori con grandi sofferenze che hanno investito grandi energie affettive e non solo affettive insomma verso questi figli genitori che definisco eroi perché alcuni hanno addirittura adottato questi bambini disabili che erano abbandonati in ospedale grazie perché questo è questo è un punto genitori san giuseppe potremmo dire ecco questo voleva genitori di figli non loro anche di figli non loro ma che diventano loro fra giancarlo paris ha scritto questo libro che non ha 1500 pagine però vi posso garantire ha un peso specifico tutto suo pregare san giuseppe il grande silenzioso a questo grande silenzioso arriveremo adesso ricordiamoci sempre che dobbiamo ritornare su quel primo maggio festa di san giuseppe lavoratore è voluta da papa pieto dicesimo nel 1955 il grande giubileo del 50 grande giubileo della del dopo guerra e quella guerra c'era stato e papa pieto dicesimo decide per questo ulteriore giorno dedicato a san giuseppe cogliendo il lavoro come elemento da festeggiare innanzitutto ricordiamo che il primo maggio quest'anno cade di mercoledì che è il giorno dedicato alla devozione a san giuseppe quindi siamo proprio nel giorno giusto e pieto dicesimo da una definizione molto bella di san giuseppe innanzitutto ha dei toni molto delicati perché si rivolge ai lavoratori e chiede se vogliono davvero accettare la protezione di san giuseppe san giuseppe come patrono del loro lavoro della loro vita della loro attività quindi lo chiede con un grande umiltà non è un'imposizione della chiesa ma una proposta della chiesa nel momento anche in cui nascevano i grandi movimenti sindacali quindi insomma c'era anche una risposta della chiesa a tutto questo movimento sociale che c'era all'interno e l'altra cosa che mi piace molto di pieto dicesimo è che definisce il lavoro come una forma di amore e san giuseppe diventa proprio il rappresentante di questo insomma che ha amato maria chiamato giuseppe chiamato gesù scusate proprio attraverso anche il lavoro il grande silenzioso parleremo parleremo di questo perché nel vangelo gesù viene chiamato il figlio del carpentiere noi sappiamo san giuseppe lo immaginiamo sempre giustamente falegname di questo anche parleremo il figlio del carpentiere il carpentiere quello che mette in piedi quella che poi sarà la casa no sì allora dipende un po dai vari vangeli in cui viene citato insomma a volte si usa il termine che più adatto per falegname a volte in termine carpentiere andando quando si va in terra santa a visitare sepphoris che è una città che è stata ingrandita proprio al tempo di gesù c'è la tradizione di leggere una preghiera proprio per il lavoro perché tanti falegnami e tanti carpentieri della zona vennero chiamati a lavorare per ingrandire velocemente questa città di sepphoris e allora si immagina che anche giuseppe con gesù magari con altre persone che collaboravano con loro siano andati a lavorare a sepphoris ora giuseppe è un migrante è un uomo che è costretto anche a fuggire per salvaguardare la sua famiglia è un artigiano è un papà è un padre che con questo figlio lavorerà parlerà spiegherà che cosa sia quel lavoro però lei lo definisce giustamente il grande silenzioso e qui veniamo all'importantissimo sottotitolo di questo importantissimo libro perché è una figura meravigliosa una figura che agisce più attraverso il silenzio che non attraverso le cose dette ieri abbiamo ricordato il signor olindo un nonno di una ragazza disabile che vive con noi che aveva questo motto una parola è poca due sono già troppe e san giuseppe non abbiamo nessuna parola di san giuseppe nei quattro vangeli proprio nemmeno una è l'unica volta che ci viene detto qualche cosa di lui sono questi dialoghi interiori i sogni insomma dove è chiamato a fare discernimento e a prendere delle decisioni immediate tipo la fuga in egitto il ritorno dall'egitto e non andare a betreme ma spostarsi a nazareth sono un po tutte queste cose e soprattutto quando viene ritrovato gesù nel tempio maria dice tuo padre dio preoccupati ti cercavamo quindi almeno un sentimento ci viene espresso questa preoccupazione di gesù per il proprio bambino che non trovava insomma per il proprio figlio e basta basta è sufficiente immaginare cosa voglio dire non trovare il proprio figlio ecco quella è una è una parte del vangelo che possiamo riapplicare al giorno d'oggi a tutti i tempi no a tutte le preoccupazioni anche la forte paternità di gesù di giuseppe di giuseppe per gesù allora parleremo di tante cose il questo libro è dedicato al papà e alla mamma da parte di fra giancarlo parisi papà si chiamava giuseppe e la mamma maria la mamma maria detta mariuccia però vero e sua mamma guardate come sono belli eccoli qua qui al matrimonio di mia sorella simona eccoli qua e lei ha voluto fare questa dedica anche perché innanzitutto perché sì perché ai genitori bisogna dedicare il bello che facciamo no mia madre gli ultimi anni della vita ha passati gli ha passati ponendosi una domanda dove era la tomba di san giuseppe lo chiedeva a tutti i frati che incontrava e ha avuto sempre questa preoccupazione e per fortuna nel 2009 in un pellegrinaggio che ho fatto in terra santa sono riuscito a vedere a nazareth la tomba del giusto probabilmente la tomba di san giuseppe a mostrarle alcune fotografie prima che morisse perché è morta nel 2010 subito dopo e mio papà giuseppe va beh scrivere il libro mi ha aiutato a superare un certo senso di colpa nei confronti di mio papà perché non sono sempre stato un bravo figlio ecco soprattutto da giovane e Giancarlo io mi devo fermare un attimo però mettiamoci in pari io e lei se lei che è frate e scrive cose così belle non è stato un bravo figlio io devo lasciare lo studio e ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità e e allora primo maggio festa del lavoro festa di san giuseppe lavoratore perché san giuseppe lo festeggiamo e la festa del papà lo festeggiamo sempre il 19 di marzo però il primo maggio è la festa di san giuseppe lavoratore ed è la festa di faregnami e banisti carpentieri e la festa di chi lavora fra giancarlo paris che è un uomo di straordinaria simpatia oltre a tutta la sua conoscenza in materia è rimasto con noi grazie mille fra giancarlo e ci ha raggiunto attenzione franco caradossi buongiorno ben arrivato fa legname in pensione educatore faregname presso il centro di formazione professionale salesiano corso operatore del legno del progetto knos fab emilia romagna la sede san lazaro castel de britti che è un posto adorabile con due formidabili allievi di cui voi direte ma come una signorina che vuole occuparsi di fare gnameria sofia santoro ben arrivata con mattias castelli insieme non fanno 35 anni vergogna loro mentre noi tutti messi insieme ne facciamo qualcuno di più ma questo è il fatto allora signor franco a questa sua cattedra definiamola così l'insegnamento arriviamo tra poco parliamo del lavoro lei è un un ragazzo con i capelli bianchi che nella vita ha sempre lavorato sempre lavorato da dove da dove partiamo per raccontare ho iniziato a lavorare a 14 anni a 14 anni facendo diversi mestieri andando avanti sono partito da fare il cameriere e fino poi dopo diversi passaggi diversi lavori di carica poter mettere al meccanico si il tonitore precisamente poi dopo sono arrivato far delle scelte di vita e allora ho fatto il falegname ma non perché proprio ho scelto di fare il falegname ma perché era la cosa più semplice da da fare in funzione della scelta di vita che ho fatto allora quest'uomo ha fatto le valigie molte volte emigrato in germania con la sua famiglia è tornato capitolo emigrazione teniamolo sempre presenti signor franco vero emigrare per cercare il lavoro per cercare il lavoro si era qualcosa di molto importante quanto complesso quanto difficile si no poi ero molto giovane anche oltretutto sono nato con la famiglia perché si cercava una stabilità familiare per migliore insomma eravamo non messi bene come adesso diciamo così ma questo per questo noi le facciamo tanto di cappello ed era anche difficile andare altrove parlare un'altra lingua capire negli sguardi degli altri di essere ben accettati o meno no insomma lavoro 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 sì lavoro anche quello allora conosce un sacerdote deoniano dico bene con il quale essendo egli un uomo buonissimo una persona stupenda lei dice no la proposta è sempre io mi alzo e me ne vado vergognandovi allora è un modo per sorridere nella giornata di oggi lei lavora con questo sacerdote creando proprio un centro di accoglienza si chiamava il quadrifoglio dico bene si era una comunità di accoglienza né a quell'epoca nel 1982 c'erano tanti movimenti che lavoravano su questo modo di operare nel sociale cercando di fare diverse comunità e sono tante nati in quel periodo e quando è che lei si innamora del legno l'ha detto prima ha detto probabilmente era la cosa più facile da poter imparare perché però perché proprio la falegnameria perché il legno è un materiale duttile ed è bellissimo da lavorare profuma perché per molti quando entrano nella falegnameria la prima cosa che dicono senti che buon odore del legno e poi appunto essendo è un materiale così duttile che tipo poi poi realizzare tantissime cose puoi realizzare tantissime cose questo meraviglioso signor franco ad un certo punto incredibilmente va in pensione lo dico perché mi raccontano che abbia una carica che bisogna chiedergli di spegnere arrivata una certa ora della sera basta basta così si fermi e giustamente lavoro del legno prima si continua con il lavoro del legno in questa in questo progetto così importante per arrivare a dei giovani allievi si esatto è bello insegnare l'uso del di questo materiale vivo che profuma allora si cerca di trasmettere questa bellezza ma è complicato per richiedere richiede una certa disciplina e anche una certa attenzione perché si utilizzano sì le mani ma anche i macchinari sono oggetti le macchine molto pericolose quindi occorre una preparazione adeguata e un rapporto adeguato con la macchina lo sta dicendo con uno sguardo che dice tutto la ringrazio signor franco perché oggi che è la festa del lavoro e dei lavoratori ricordiamoci sempre di chiedere la sicurezza sul lavoro è un altro capitolo di questa giornata però è corretto sottolinearlo lei da 12 anni insegna ragazzi che vanno dai 15 ai 18 tutte le tecniche quelle della falegnameria e appunto dell'uso dei macchinari anche sofia santoro e mattias castelli allora allievi da quanto tempo da quest'anno da quest'anno quindi neofiti nuovi 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 di zecca e siete siete contenti di questa di questo percorso di questa scuola di formazione si molto molto soprattutto per i prof e per il mestiere che facciamo ma però bravo 17 anni lei l'idea è molto chiara ma è vero che c'è un mobile in un corridoio di fronte al quale quando lei passa mattias dice opera mia si com'è opera nostra opera vostra molto bello molto tesoro quanto è bello lei molto bello come l'ha detto bene fare sofia fare sofia dico bene fare una cosa pratica un'opera prima voi prendete del legno che il legno sta lì ed è legno con voi diventa altro che soddisfazione da una bella soddisfazione perché vedi magari davvero dei pezzi di legno dei pannelli diventare poi qualcosa di cui tu puoi essere poi fiera o fiero dipende da chi l'ha fatto ed è molto bello e lo farete da grandi questo lavoro ora a 17 anni ho fatto la domanda del millennio cioè alla quale siete autorizzati anche a non rispondere sia chiaro il signor franco ride fra giancarlo pure però imparare a fare una cosa e tanto sono consapevole che magari potrò anche intraprendere altri lavori voler imparare altri mestieri però al momento mi piacerebbe molto continuare il lavoro che sto imparando matias penso che lo farò pur da grande piacerebbe troppo come lavoro tutti quanti arrivo è frangelo soluccherà soluccherà contento ma è vero che è contento resumo credo spero che una persona è contenta vederli così giovani con un ottimo maestro stavo pensando mentre parlavano a giuseppe a gesù e penso che giuseppe quando si lavora da artigiani si parla insieme non è solo il lavorare il faticare sudare certo tra l'altro papa francesco parla anche dei genitori che sono artigiani dell'educazione dei figli quindi assoluta una fatica che fa sudare tutti i giorni però immaginavo a gesù che lavora con giuseppe giuseppe che gli trasmette alcuni insegnamenti alcuni valori e li probabilmente c'è stato un rapporto educativo tra i due lavorando insieme si sono confrontati su alcuni aspetti religiosi sul rapporto con la mamma con maria sulla storia di sinini di giuseppe e sul futuro di gesù lì sul lavoro avranno fatto questi discorsi questi confronti penso sia molto bello immagine bellissima noi la ringraziamo tanto perché è quello che tra le virgolette dice paolo sesto con la preghiera di san giuseppe a nazarete noi arriviamo tra poco anche ad una preghiera che pregheremo noi che sia lei a leggere dunque signor franco voi avete una statuina in legno in tarsi realizzata da un salesiano no si è una statuina dove un salesiano ha fatto tutto un tempietto attorno ma che bello ed è che meraviglia e l'abbiamo in falegnameria tutto impolverato abbiamo fatto una teca l'abbiamo protetta perché sennò la polvere che bella esatto e noi lavoriamo e lui sta lì senta lui sta lì e lui deve stare lì per questi ragazzi i ragazzi che in 12 anni sono passati e continuano a passare per le sue mani per il suo sguardo per le parole dette non dette per il suo insegnamento ecco quanto è grande la soddisfazione di sapere di metterli nelle mani veramente qualcosa di importante mettere nel loro cuore tanta fede tanta tanto amore sacro per quella cosa sacra che è il lavoro allora innanzitutto bisogna considerare che non è semplicemente una cosa mia personale perché siamo venuti qua noi con la magliettina no si certo con questo logo veniamo dai salesiani utilizziamo il metodo salesiano il metodo salesiano è un metodo molto importante perché appunto ci mette di mezzo anche l'educazione come sottolineava prima assolutamente non mi ricordo il nome tra Giancarlo e la soddisfazione per noi docenti per noi insegnanti è grandissima soprattutto quando ritornano perché hanno trovato lavoro perché si sono sposati perché hanno un figlio ed è meraviglioso quello che diceva prima lì hai fatto gol quanto è bello lei che si commuove di fronte a queste cose è guardi lei è una bella bella bellissima persona sa perché mi scusi fra Giancarlo le do subito la parola perché in tutto questo questa volata che lei ha fatto commuovendosi c'è il ragazzo che ha preso le valigie ed è partito per la Germania c'è lei con i suoi genitori c'è lei che fa lavoro al tornio eh certo e poi e poi e poi e poi e poi quindi e poi tanto altro grazie ma Giancarlo l'ho interrotta no volevo solo dire quello che diceva prima Pio XII che il lavoro è il linguaggio dell'amore e qua si vede si vede subito sentite Sofia e Mattias qual è il prossimo la prossima opera che volete fare realizzare penso un armadio uffa ma è meraviglioso lui è partito da da un armadio Sofia io vorrei realizzare un tavolo un armadio e un tavolo e un tavolo mi piacerebbe basta per arredare il cuore e la speranza con un armadio e un tavolo fatto da questi ragazzi allora sentito un po' sì mi stanno fanno facendo segni che dobbiamo dobbiamo arrivare ad un punto per poi proseguire però quando ho gli ospiti così è un po' difficile correre sulla scaletta fra Giancarlo Paris c'è questa preghiera bellissima scritta dal Papa Pio XII a San Giuseppe Artigiano proprio nella giornata di oggi ce ne legge solo una parte? le dedichiamo anche a tutte le vittime del lavoro che sono veramente tante ed è una vergogna che si continui così ottienici dal Signore o nostro protettore amatissimo umiltà e semplicità di cuore affezione al lavoro e benevolenza per quelli che sono in esso nostri compagni conformità e divini voleri nei travagli inevitabili di questa vita e letizia nel sopportarli consapevolezza della nostra specifica missione sociale e coscienza delle nostre responsabilità spirito di disciplina e di preghiera, docilità e rispetto verso i superiori fraternità verso gli uguali, carità e indulgenza coi dipendenti accompagnaci nei momenti prosperi quando tutto ci invita a gustare onestamente i frutti delle nostre fatiche sostienici nelle ore tristi quando sembra che il cielo si chiuda sopra di noi e che perfino gli strumenti del lavoro si ribellino alle nostre mani allora noi ringraziamo fra Giancarlo Paris voglio ricordare pregare San Giuseppe il grande silenzioso lo ringraziamo e ringraziamo tutti questi ospiti perché spendere con noi questi minuti del primo maggio è stato un grandissimo regalo ci ha permesso di lavorare nel modo migliore signor Franco sai che faccio io il giorno che sto a San Lazzaro la vengo a trovare perché perché no è una minaccia non sappia grazie infinito di essere stato con noi grazie a Mattias grazie a Sofia buona vita grazie a Giancarlo